Dal capo Pasfalto di Danio su da Marco Rompietti e Lorenzo Morzioni. Questa è la 6 fila di Scudetto, questa è la partita che apre le porte con la madre di tutte quante. Occhio a Gubbiotti, spara al destro! Una portata terrificante da parte di Gubbiotti. Poggiani trova il mancino Francesco Poggiani! Bellissima giocata da parte di Francesco Poggiani. La bomba! Marco Poggiani! E ancora Ricci! Una giocata fantastica nello stretto del tuo Marchetti Ricci. Contessa con la punta, Sergio Contessa! Uno dei tuoi militari, ne sono tutto per il carisma di questa squadra. Parte numero 10, la bomba! Seppettia per petto, va col destro Francesco Poggiani! Serve come il pane questo giocatore. Ma Massalendi! Massalendi è 4-4! Sempiti! Moltissimo gol da parte di Francesco Poggiani. L'ha provato in cielo al primo tempo con la grande Serpentina. E arriva la stoccata di 7 e il gol di Matteo Parchetti. Marietti entra ancora Poggiani! Poggiani! La scuola totale da parte del 0-7-4-4 che suffisce un'altra volta a calcio avanzato. Finisce qui! L'impresa! Ai due paesani! La squadra di Monte Castelli dell'Orotoglio di Monte Castelli si qualifica per la prima volta la finale Scudetto! E questa è la sfida da Liverpool Iales contro la Dolce Vita, ne rimarrà soltanto una. La conclusione è vincente! E passa subito! Tanta il gallo! Come si è presentato Galletti il primo pallone del calo! Marietti ne rova la domanda di Caneliani di calcio di gesto! Hai una situazione di Wolvergain e tu questo è il gol! Gioi Galletti ha un altro sprint, ha un altro passo, cambia la parola ancora! Ballino Galletti ancora irrepredabile! 3-2 Dolce Vita per il 5-4! Un strambo direttissimo veramente incredibile questo giocatore! Perché di parte Romualdi, terzo Alessandro Caronno! Questo colpo mi sa perché con il 3-3 hai il paore del Fogliares quando siamo all'undicesimo! Si accinta! Spazio Vieni! Dei Caneliani! E infatti non ci tenute mai Alessandro Caronno! Adessere Romualdi, forte sfondita! Bravo! Vieni! Il gol del 6-4 di Luca Vieni! Non c'è più tempo, i Liverpool di Aless mantengono la categoria, lo fanno! Vieni! Alessandro Caronno! Il gol del 6-5 di Luca Vieni! Avv seemed pentru a ha beato il secondo una spedica. D verso il 4-5 di Luca Vieni! Era un bel мелSO� lefto! Ma hai ragazzi! sedutanti Unggno usa così! Vieni! Hai ragazzi! Escríbete av tymi vers Bonnie! Va bene qui! Grazie a tutti.